Ciao a tutti gli amici di Tutti i Pazzi per il Calcio, non è uno scherzo, sono il vostro premier Silvione da Arcore che vi dà il più cordiale Happy Halloween e dunque buon calcio a tutti belli e brutti quelli che ci sono. I brutti sono di là, Carlo Barbero, Introna, Gallina, chi più ce ne ha più ce ne metta, i belli sono qui, come vedete il vostro premier è un grande appassionato della vostra trasmissione e vi dice ragazzi siete fortissimi e vi prometto che non vi lascerò mai soli perché mi avete conquistato, un grosso bacione e buon calcio, ciao! Il mio c'è